ciao a tutti ragazzi sono l'unico solo e oggi siamo finalmente che vi spiego perché non mi funziona clash royale ho provato a fare un video poco fa in cui tipo spiegavo il motivo per cui non funziona clash royale questo si allontano il microfono non si sente tipo una merda e non posso caricarvelo per il fatto che ha un lag continuo un bug grafico si ferma l'immagine io sembra che non muova la bocca mentre parlo il gioco non si vede mentre cambio più o meno mentre tento di cambiare le schermate che significa che neanche così riuscire a farvi vedere come che non funziona clash royale vi lascio giusto qualche clip che sono riuscito a salvare buona visione ok entriamo il nostro amatissimo gioco che provo a premere un pulsante per muovermi e il porco zeus preparo clash royale prima della live era perché generalmente ci metteva un pochino a caricare ma non così tanto io sono qua più o meno da ai 41 in questo momento sul mio telefono sono di 48 e siamo all 84 per cento 49 ma questo è quello che sono riuscito a salvare purtroppo non sono riuscito a salvare di meglio quindi io vi lascio giusto una clip di come viene con il bug grafico nel frattempo vi ricordo di lasciare un like e condividere i video in modo che così almeno riusciamo a far vedere i video a più persone ciao a tutti alè finalmente siamo arrivati al 83 se io avessi fatto una live su clash royale molto probabilmente non sarebbe andata molto bene immagino grazie a tutti